uno dei difetti che ho notato in me in questo anno e la anzi è l'incostanza quindi mi sono reso conto di essere una persona incostante c'è una roba incredibile io non sono mai mai riuscito a portare a termine davvero qualcosa e questa cosa qui mi ha fatto vedere che insomma mi penalizza ma in qualsiasi cosa cioè non so magari ho un progetto una voglia di realizzare qualcosa io sono forte negli inizi veramente vado alla grande cioè io come comincio sembra che esploda tutto poi in realtà esplode tutto perché poi mi fermo non so come mai e quindi ho notato che sono veramente incostante c'è una roba incredibile e non lo so non so se lo vedo come un difetto sicuramente non lo vedo come un pregio per il momento però lo vedo come un qualcosa che mi ha penalizzato perché veramente ma qualsiasi cosa anche un rapporto una relazione di amicizia o una relazione amorosa non sono mai stato costante un lavoro qualsiasi cosa io faccia dopo un po' perdo l'entusiasmo e quindi ho bisogno di cambiare il problema è che non riesco mai andare fino in fondo ed è un difetto di cui mi sono reso conto quest'anno tantissimo ma veramente veramente tanto e quindi stavo cercando di ragionare come poter risolvere questa cosa e come lavorarci su e e questo video un po per perché oggi è il primo maggio sono le nove e mezza di sera ho bevuto una birra con due amici che mi ha fatto un piacere incredibile perché non vedevo da tanto abbiamo parlato di tantissime cose è stato bello confrontarsi perché insomma sono potute emergere fuori un sacco di cose bellissime anche dolorose perché ci si confronta con il cuore quando ci si confronta con il cuore escono fuori anche cose dolorose e vanno bene e io sto cercando di diventare una persona autentica e sincera quindi questo mi mette anche di fronte proprio agli errori commessi nel passato a delle cose che ho fatto di cui non vado fiero che assolutamente voglio recuperare insomma chiedere scusa ma non era di questo che volevo parlare in questo video questo video è per dirvi semplicemente una cosa prova a fare un esperimento perché mi è venuto proprio in mente di fare questa cosa e farmi sostenere da voi qualora lo voleste è giusto qualora lo voleste va bene insomma e questo video è per dirvi che da adesso mi impegno per 30 giorni visto che io sul canale non sono mai stato costante mai anche con youtube come potete vedere se voi tornate indietro nei miei video se no faccio un video due al mese uno ogni 10 ogni 15 giorni insomma non c'è una costanza e quindi ho provato a lanciare una sfida a me stesso e che è quella di fare un video al giorno per 30 giorni per tutto il mese di maggio ora io non lo so se ce la farò però sento che ho bisogno di provare a fare questa piccola cosa perché mi ha incoraggiato Giuseppe una persona a cui voglio veramente bene dicendomi che le cose non devono essere totalmente di punto in bianco cioè si cambia piano piano e a volte si parte dal nero e pian piano si sbiadiscono no facendo delle piccole azioni non devi per forza fare chissà che cosa però comincia anche a mettere delle piccole azioni che vanno a sbiadire quel nero magari sarà un nero meno scuro poi pian piano un grigio poi pian piano un grigio chiaro fino a che non diventa bianco quindi questa cosa mi ha fatto riflettere no allora inizio facendo i video io non sono veramente sono proprio incostante in tutto ma in tutto cioè è una roba incredibile ve lo giuro e quindi ho deciso di provare a fare questo esperimento per 30 giorni e non so cosa vi dirò non ho idea perché anche lì mi sono chiesto cosa posso dire però ho pensato parliamo vi racconto un po di me vi porto un po in giro vi leggo qualche frase di un libro vi do magari qualche riflessione insieme facciamo qualche riflessione rispetto a quello che sto leggendo quello che sto vivendo visto che maggio sarà un mese in cui io sarò costretto tra virgolette rimanere c'è di rimanere a torino sarò costretto a rimanere a torino perché andrò via a giugno a giugno inizierò a fare la stagione estiva perché dovrò mettere assolutamente da parte dei soldi per poter proseguire il mio viaggio quindi lavorerò tutta l'estate solo che il problema della stagione estiva in montagna e che partono un po tardi cioè partono a giugno io speravo partisse già maggio in realtà partono a giugno e quindi ho questo mesetto per così tra virgolette vuoto poi mi inventerò qualcosa da fare perché non posso stare un mese senza far niente e non me lo posso permettere ma al di là di questo voglio provare a lanciare una sfida a me stesso cioè provare a vedere se riesco ad essere costante in questo mese quindi proverò questa cosa non so se anche voi siete incostanti come me avete questo problema cioè che siete forti negli inizi quindi partite bene avete l'idea brillante bellissima fantastica però poi dopo a un certo punto scatta qualcosa che vi fa cambiare rotta improvvisamente cioè senza un preavviso senza nulla io ho sta maledizione che mi porto addosso da ormai da quando sono nato da 30 anni 40 insomma ho sta maledizione che qualsiasi cosa faccia dopo un po io mi annoio mi stanco ho bisogno di cambiare e questo mi ha penalizzato nei rapporti tantissimo soprattutto però anche a livello lavorativo perché poi anche un lavoro fighissimo ma se non mi entusiasma io poi cambio e invece questa volta voglio provare ad andare fino in fondo non è un'impresa chissà che non mi cambierà forse la vita ma per me è una mia sfida e voglio provare a realizzarla quindi questo video per dirvi che per tutto il mese di maggio proverò proverò non vi assicuro che ci riuscirò però voglio cominciare a mettere una controtendenza perché ovviamente quando ci si accorge di avere diciamo così non voglio chiamarlo un difetto ma quando si deve correggere la rotta della propria vita quando ci si rende conto che non si sta andando nella direzione giusta bisogna correggere un po la rotta bisogna girare un po il volante e in qualsiasi cosa questo non solo nell'incostanza io però in questo caso siccome sono veramente incostante ma non ho mai credetemi credetemi sono la persona più incostante del mondo voglio fare questa sfida con me stesso e la faccio qui con voi con voi nel senso che poi sarete i testimoni di questa avventura e credetemi che per me è un'impresa incredibile perché sembrano pochi 30 giorni ma è proprio fare qualcosa dall'inizio alla fine che a me viene difficile magari riuscirò a fare un video ancora domani dopo domani però già per me quattro giorni diventa una roba che dico no basta non c'ho più voglia non mi entusiasma quindi vi chiedo un aiuto supportatemi in questa sfida quindi se avete voglia anche solo di scrivermi un messaggio di incoraggiamento a non mollare è ben accetto al di là di questo mi piacerebbe sapere invece qual è il vostro difetto non più grande perché io non credo che sia l'incostanza forse il mio difetto più grande ma oddio ne ho 5 o 6 che sono tra i più grandi ma abbiamo un sacco di difetti grandi però l'incostanza è uno di quelli è uno di questi se avete voglia di condividere anche voi un vostro difetto e se lo avete risolto in che modo cioè tipo magari vi siete resi conto di essere anche voi incostanti come avete vinto su un'incostanza perché è una roba che mi tocca tantissimo mi tocca profondamente perché qualsiasi cosa io voglia fare a un certo punto la mollo qui su youtube con qualsiasi altra cosa il viaggio a un certo punto succede qualcosa che si rompe io perdo l'entusiasmo e invece ho capito che bisogna provare a ritrovare quell'entusiasmo non per forza per fare quella roba ma per portare a termine la propria decisione che secondo me questo è molto importante ovviamente per me è importante poi ci sono mille sfaccettature mille situazioni diverse ognuno al suo caso è vero che bisogna poi anche cambiare idea non essere però io sono incostante su tutto qualsiasi cosa io sono incostante e quindi niente mi lancio questa sfida da solo magari nessuno guarderà questo video però provo per 30 giorni o per il mese di maggio ad essere costante ci provo come va va non vi assicuro il risultato non non dirò nulla però ci devo almeno provare almeno dire gianni ci hai provato e va beh verso ancora una volta però ci ho provato e quindi per 30 giorni farò dei video ora magari saranno video non come questo cioè saranno video magari vi porto un giorno a torino un giorno appunto faremo una lettura non lo so boh mi inventerò qualcosa ma per me non è di per sé quello che faremo nel video ma è provare ad essere costante ecco questa è la sfida mia di questo mese il mese di maggio siccome maggio per me è un mese molto importante soprattutto il 3 maggio oggi è il primo quindi il 3 maggio per me è un mese importante una data importante il 3 maggio voglio provare nel mese di maggio a sfidarmi a sfidarmi e a superare un mio limite spero magari di incoraggiare qualcuno a provare a sfidare un suo limite anche se lo ha fallito mille volte quella roba lì perché io credetemi sono 40 anni che fallisco questo obiettivo di essere costante e invece questa volta voglio provarci per cui inizio da questa roba apparentemente banale cioè fare per 30 giorni un video ma per me non è così banale per me è una bella sfida è grande qualunque sia la vostra sfida non sminuitela provateci provate a fare qualcosa per cambiare quella tendenza per provare a dare un giro a quella roba che un po certo punto vi fa rendere qualunque cosa sia qualunque difetto qualunque roba vostra che riconoscete come penalizzante provate a mettere una contro cioè proviamo insieme a mettere una contro tendenza trovatevi una sfida da fare per quella roba lì non so faccio un esempio io sono in costante devo provare per 30 giorni a fare video magari uno invece è timido non riesce a parlare magari provare a per il mese di maggio ad avere delle discussioni con qualcuno magari anche disconosciuto qualche per magari invece qualcun altro non ha il coraggio non so di chiedere scusa che è uno dei miei difetti magari trovare una persona a cui chiedere scusa cosa che tra l'altro farò questo mese e insomma io voglio provare a a mettere questa contro tendenza maggio il mese in cui lo dedico a provare a cambiare un pezzettino di me niente era solo così per condividere però sono mi 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 motiva avere una sfida avere qualcosa di dire ok hai sbagliato non importa riprovaci ecco questo riprovarci mi mette energia mi mette carica e quindi sono sono contento per cui ci ci provo poi vediamo come va tanto spero che voi stiate bene e nulla io volevo dirvi appunto che a maggio resterò a torino ma giugno finalmente inizierò questa stagione in montagna e non vedo l'ora metterò da parte qualche soldino e finalmente potrò fare anche un viaggio diverso tra l'altro se riesco a mettere da parte un bel po di soldini il mio obiettivo il mio sogno è poi quello di comprarmi un minivan ferro vecchio e camperizzarlo quindi metterci dentro un letto ma neanche in realtà devo solo magari sistemarlo un po però e viaggiare con quello quindi il mio obiettivo è questo e anche qui dovrò essere costante va bene dai provo provo a fare questa questa sfida quindi noi ci vediamo domani che il 2 maggio oddio sei sicuro gianni cioè sei sicuro sicuro ormai l'ho detto ciao